Inaugurare qui a Napoli questa iniziativa penso sia molto importante, indicativo anche del fatto che il nostro intendimento per la candidatura a Capitale Europeo dello Sport deve essere veicolo di buone abitudini, quindi sicuramente il connubio tra cura dell'ambiente, cura della persona e appunto il sport è evidentemente un connubio fondamentale, io ho sempre sostenuto la grande importanza che lo sport può avere anche e soprattutto per l'educazione dei nostri ragazzi e della nostra società. Le Ecolimpiadi uniscono gli appassionati di diverse discipline in una grande manifestazione sportiva che promuove la scoperta e il rispetto dell'ambiente naturale con allestimenti ecosostenibili. Napoli, candidata a Capitale Europeo dello Sport 2026, ospiterà il 13 aprile la prima tappa allo stadio Antonio Landieri di Scampia con la partecipazione di diverse federazioni sportive italiane. Sì, attraverso lo sport, iniziative sportive, si inculcano ai nostri ragazzi ma in generale a tutti i nostri cittadini anche delle pillole di saggezza e di cura ambientale visto evidentemente la situazione drammatica in cui si trova anche il nostro ecoclima evidentemente può soltanto fare bene. Quindi Napoli, Capitale Europea dello Sport ma Napoli come davvero punto dal quale possiamo, speriamo, ripartire per una ricostruzione di quelli che sono i valori fondamentali della nostra società, un po' trascurati negli ultimi anni.